ciao Anna scusami ma c'è qualcosa da capire vedi sono tutti quanti abbastanza adulti e ce n'è non so se li vedi no ma ce n'è tanti ce n'è qualche decina proprio quasi di fronte alla torre di salvatore d'acquisto forse ci siamo incontrati una volta qua ce n'è tantissimi tantissimi fino giù in fondo sia da sta parte che da non si capisce che cos'è una forma di avvelenamento non sono dice che ieri sera non c'erano ieri sera non c'erano e li hanno trovati stamattina addirittura questo forse è sceso giù qualche animale poi qualche volto è tentato non lo so vedi ce n'è proprio tanti ce n'è tanti non so chi puoi avvisare a me mi ha risposto nessuno non so chi puoi avvisare ok quindi passo scuro tra l'ospedale e vedi lì c'è la torre salvatore d'acquisto quindi sarà 200 metri a nord a nord della torre di salvatore d'acquisto e lì c'è il bambino gesù ok fammi sapere ciao 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 ciao